Ma sto fumo... Quali sono i suoi vizi maggiori o sono stati? I vizi maggiori? Le canne. Oddio, 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 oddio! No! No, no, no! Lo so, io ero come un fetente dietro una tenda con un infermiere che mi teneva la mano così Che le dava coraggio! E quando ho ripreso conoscenza l'ho guardato negli occhi e sa che cosa mi ha detto? Lui mi ha detto, oh! Oddio, 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 oddio! No! No, no, no!